Ben ritrovati con l'informazione sportiva. Apriamo con il calcio perché si conclude oggi la decima giornata di andata con due posticipi legati a Sampdoria-Roma oggi alle ore 16.30 e Lecce-Fiorentina alle 20.45. Andiamo a vedere anche i risultati tra sabato e ieri sera. Andiamo con la schermata precedente dei risultati dove l'Empoli ha vinto in casa col Monza 1-0. La Juventus è andata a vincere il derby 1-0, 2-1 Atalanta-Sassuolo. Ieri Inter-Salernitana 2-0, 0-0 tra Lazio-Udinese e 2-0 Spezia-Cremonese 3-2 Napoli-Bologna. Il Milan va a vincere a Veruna 2-1 per una classifica che vede il Napoli in testa dopo la decima giornata con 26 punti. Atalanta 24, Milan 23, 21 Lazio-Udinese. Roma in attesa della gara di questo pomeriggio a 19, Inter 18, Juventus 16. E poi andiamo nella parte destra della classifica dove in zona salvezza vediamo il Lecce-Bologna 7, Veruna 5, Cremonese 4. Chiude la Sampdoria con tre ma con una gara da recuperare. Come abbiamo detto è un Napoli che vola decima vittoria consecutiva tra campionato e Coppa per la squadra di Spalletti. Che se l'è vista brutta ieri con il Bologna ma grazie a un gol di Osimè ha messo la zampata vincente. Ha conquistato altri tre punti. Non perdono terreno anche l'Atalanta e il Milan. Il Milan che ha sofferto 1-1 al Bentecoti e poi dopo è arrivato il gol vittoria. Gustiamoci tutte le realizzazioni con il treno dei gol. Il pallone verso Barella lo stop in area. Barella! Niccolò Barella! Propone la palla per Locosfili che la fa passare. Sulla linea destra è stocca per il vantaggio della Cremonese. Un minuto si è sblocato. Zola passa bene. Spazio per Zola. Palla per Acudelo che non ci arriva. Zola! E' rinato con Conti. Conto palo colpo di testa ancora per Amiata. La palla resta lì. Per Olmo. Con sinistro! A capovolto la partita allo Spezia. Zericola. Insiste la Cremon cross. Secondo palo. Pieda! Con la testa per il primo gol italiano. Tiene in campo. Ma che in go vuole il cross a cercare Beto. Palla che passa. Pereira mette giù la sistema. Per Samaric. Successa. Poi la testa di Pereira. Deulofeu sul rimbalzo è passato. Deulofeu! Nico Dominguez dentro per il cambiato posizione regolare. E poi c'è il vantaggio di Zircsi. A sorpresa la sblocca il Bologna. 1-0. Barro in favore del rosso-blu. Parte il cross in mezzo. Pallone che ristagna in aria. Guajesus! Ha pareggiato al Napoli. Al 45. Pallone per Quaraxelia. In aria. Quaraxelia. Prova a rientrare. Vince un rimpallo. Quaraxelia! Skorupski salva tutto. Milan. Largo il pallone da Leao. Che va veloce in aria. Percociera di Leao. Palla dentro! Autocall del Verona. Passa così il Milan. Palla centrale per Tamez. Sale. Palla verso De Paoli che allarga. Gunter calcia! Ha pareggiato al Verona. 1-1. Leao va largo da Rebic. La tocca di prima. All'interno per Tonali! Il Milan passa in vantaggio di nuovo. Sandro Tonali! Lesione al bicipite femorale per Premia. Fuori di 20 giorni. Queste sono le ultime notizie. Mentre Allegri trova due big. Pogba in gruppo e Chiesa. Farà un test in amichevole. Quanto riguarda l'Inter. La situazione degli infortunati. Lukaku ci siamo. Nuovi esami per il Berga. Inzaghi lo vuole a Firenze. E poi il Milan si aggancia. Avete visto le immagini insieme a un Napoli show. E ci sarà di divertirsi. Nel frattempo le ultime formazioni della Roma di questa sera. C'è Belotti al posto di Abram. La Fiorentina invece con Nico González. Lanna, presidente della Sampdoria. Dice che i soldi li metteranno gli arabi. Perché sapete che è una proprietà vacante. E quindi bisogna correre a ripari per salvare la Doria. Cambiamo pagina. Andiamo sulla serie B. Andiamo a vedere i risultati di questo. Fine settimana. Si è corretta la grafica con la Ternana che vola. Anzi, questa è la classifica. Possiamo prendere... Eccola qua. Allora, Bari-Ascoli. Vince l'Ascoli 2-0 sul terreno del Bari. Alla San Nicola. La Ternana strappa in altri tre punti. E vola al primo posto in classifica 3-2 in casa del Benevento. Vince il Cagliari col 2-1 in casa con la Brescia. 0-0 tra Cittadelle e Spal. Vittoria esterna del Genoa sul campo del Cosenza 2-1. Successo rotondo del Modena in casa con la Como. 5-1. 3-3 scoppiettante tra Palermo e Pisa. 2-0. Vince il Parma in casa con la Regina. Quanto riguarda invece ieri è crisi nera per il Perugia che perde in casa 2-1 su Tirol. Mentre nel venerdì, nell'anticipo, il Frosinone andrà a vincere sul terreno del Venezia per 3-1. Per quanto riguarda la notizia della panchina del Perugia, possiamo entrare in studio. Torna Castori sulla panchina del Perugia. Dunque è crisi per quanto riguarda la squadra Umbra. Per quanto riguarda l'altra squadra Umbra, ovvero la Ternana, andiamo a vedere la classifica. Vola in testa con 19 punti. Segue la Regina e Frosinone. Bari e Genoa a 18. 16 punti per Palermo e Brescia. 14 il Cagliari assieme a Sul Tirol. 12 Modena e Ascoli. 11 il Cosenza. Vanno a chiudere. Pisa 7, Como 6, Perugia 4. Andiamo a vedere allora il treno dei gol della Serie B. Cominciando dalle partite di ieri, il posticipo. E poi l'ultima gara sarà appunto quella tra Venezia e Frosinone. Quella del San Nicola è la sorpresa della giornata. Il Bari viene sconfitto dall'Ascoli che fa le prove per la realizzazione. Trovando poi il gol buono al 78esimo con Simic. Viene però annullata la prima rete, quella di Dionisi, per un fuorigioco di partenza. Le prove però funzionano bene per la squadra marchigiana. Che poi il gol lo trova sotto misura proprio con Simic. Al minuto 78 o se volete 33esimo della ripresa. Bari 0, Ascoli 1. Grande esultanza della formazione marchigiana che raddoppia con Dionisi al novantesimo. Bari 0, Ascoli 2. E la Ternana vola in vetta. Il Parma aggancia il Brescia, abbattuto alla Sardinia Arena dal Cagliari 2 a 1 per effetto del 2 a 0 imposto alla Regina. Qui il gol di Osterwolde al 51esimo e la raddoppia sotto misura di Valenti. Parma batte Regina 2 a 0. Al San Vito di Cosenza passa il Genova con questo calcio di rigore concesso in favore di Coda. Il Genova si sistema a 18 con il Frosinone, con il Bari e con la Regina. Poi c'è l'espulsione. Il Genova resta in 10 di Bani, somma di ammolizione. Struttmann, ex romanista, segna il 2 a 0 tre minuti dopo e vince 2 a 1. Cagliari-Brescia finisce 2 a 1 con un gran primo tempo dei Sardi. Lumombo su passaggio di Mancosu e De Iola che raddoppia alla trentatresimo. Non basta la rete di Elzer al novantesimo. Finisce 2 a 1 con tre punti isolani. Grande partita di Tremolata. Quattro assist in cinque gol. Il primo all'undicesimo. Rete del capitano Pergreffi con il Como surclassato di reti. Qui il colpo di testa ancora di Pergreffi su assist dell'ex Ternano Tremolata. Siamo al ventitresimo. E poi il terzo gol segnato da Armellino, sempre su passaggio di Tremolata. E il 4 a 0 il duo in apertura di ripresa. Si arriva poi al settantaduesimo col gol di Magnino su passaggio di Pergreffi. La rete della bandiera di Cutrone suggerito da Cerri. Modena batte Como 5 a 1. Andiamo a Palermo. Lo stadio della favorita. L'undicesimo il gol di Di Mariano per l'1 a 0. Rosa Nero. Grande esultanza ma grande sinistra a giro di Ture per l'1 a 1 al venticinquesimo. Quarantasettesimo al primo tempo. Elia. Nuovo vantaggio degli isolani che poi vanno sul 3 a 1 ancora con Elia al cinquantasettesimo. Giozzi accorcia le distanze al sessantaquattresimo. Il Pisa corona la sua rimonta alla Renzo Barbera con il gol. Gran gol di Tramoni. Finisce 3 a 3 un punto per uno. Per la concomitante sconfitta del Bari al San Nicola per merito dell'Ascoli. Simic al settantottesimo e Dionisi al novantesimo. Laternana pur andava sotto di due gol. Autorete di Iannarilli. Questo curiosissimo rigore con la palla deviata dal portiere Iannarilli che concede un penalti a Lagumina vince al Vigorito per tre reti a due e balza in vetta da sola. Qui il raddoppio di Lagumina dal dischetto. Ma Laternana non muore mai e va nella ripresa a segnare di testa questo tap-in con il difensore centrale Sorensen. È il tredicesimo. La squadra di Cristiano Lucarelli va in gol con una rete che ricorda quella di Baggio alla Bulgaria. Pettinari al ventottesimo per il 2 a 2 e la squadra Umbra non si accontenta e segna un gran gol su questa respinta corta sfruttata di sinistro da Di Tacchio violando il campo Sannita per 3 a 2. Nell'anticipo dello stadio Penso seconda sconfitta dopo quella interna con il Bari per il Venezia questa volta con il Frosinone. La squadra Lagunare va in rete dopo un'azione insistita con Cherishov al 42esimo del primo tempo rientra negli spogliatoi in vantaggio per una rete a zero. Vediamo da altra angolazione la rete della formazione veneta con un mancino e la regolarità del gol. Il pareggio arriva nella ripresa al 25esimo, cross di Frabotta, colpo di testa di Lucioni. La situazione è di 1 a 1 però poi la squadra di casa resta in 10 contro 11 in particolare per un fallo di mano che genera la doppia munizione di Ceccaroni. Il direttore di gara è Minelli di Roma 2 che lascia il Venezia in 10. Passano pochi minuti, siamo al 40esimo, assist di Frabotta, gol di Mulattieri. Frosinone in vantaggio a 5 minuti dalla chiamata del recupero durante il quale al quarto giro di lancetta. Se ne va Borrelli che resiste al tentativo dei difensori. Frosinone batte Venezia 3 a 1 e la squadra del presidente Stirpe aggancia virtualmente Regina e Bari. Abbiamo sentito a Radio Cusano Campus Antonio Palumbo centrocampista della Ternana una bella chiacchierata per questo esterno che assieme a tutto il gruppo la squadra di Lucarelli vola in testa alla classifica della Serie B. Andiamo a sentire. E' una Ternana diversa perché l'anno scorso era il primo anno in B e quindi si poteva stare a fare un po' di fatica all'inizio come poi è successo. Perché è un campionato difficile e se non entri con la mentalità giusta subito inizi a fare fatica. Poi sono arrivati tanti ragazzi nuovi che la B l'avevano fatta e quindi diventa tutto più facile così. La vittoria di Parma è stata importantissima ma secondo me non è un momento preciso. Secondo me è tutta una conseguenza perché poi quando vinci inizi a prendere consapevolezza, inizi a prendere fiducia e quindi ti viene tutto più facile tra virgolette. Stiamo facendo la grande anche sotto l'aspetto difensivo perché se no non riesci a fare, se non fai bene l'aspetto difensivo, di conseguenza non riesci a vincere 3-0. Certo, certo. Quello ti voglio dire. Quindi secondo me quello è molto importante, non prendere gol, dare sempre l'immagine di squadra, di combattere. Il campionato è lungo ed è bello per questo perché puoi chiamarti Genova, puoi chiamarti Venezia, puoi chiamarti Parma ma se poi non ci metti la testa fai brutte figure in questo campionato. Certo. Però secondo me le squadre che devono venire fuori sono il Venezia, il Genova che sta lì però secondo me verranno fuori perché sono squadre forti. Noi saremo lì a giocarci con tutti senza alcuna paura e senza alcun problema. Il Presidente l'ha detto che puoi andare in Serie A, noi vogliamo fare anche noi quello, vogliamo andare in Serie A anche noi e quindi non ci nascondiamo. Ovvio che dobbiamo pensare partita per partita che nessuno ti regala niente e che devi stare a combattere fino alla fine sicuramente. E stasera è la notte in cui si assegna il pallone d'oro, occhi puntati su Karim Benzemal indiziato numero uno in molti tra cui appunto Carlo Ancelotti dice è l'unico a meritarselo da appunto questa sera scopriremo chi sarà il vincitore. Cambiamo decisamente l'argomento, andiamo sul moto mondiale, ieri mattina a Filippine andrà in Australia alla terz'ultima prova del mondiale dove grazie al terzo posto di Pecco Bagnaia lo stesso pilota della Ducati è volato in testa alla classifica con un più 14 sul campione del mondo. Fabio Quartararo che è uscito ha raccolto 1-0 l'ennesimo di questa stagione. sta andando malissimo per il pilota francese che non è supportato dalla moto, dalla Yamaha mentre la Ducati è sicuramente la migliore moto per quanto riguarda quest'ultima parte di stagione. Ben quattro piloti nei primi sei a firma della casa di Borgo Panicale. dobbiamo dire che questo vantaggio porterà in Malesia a Sepang che è la penultima prova del circuito mondiale addirittura la possibilità in caso di vittoria e con una serie di coincidenze a portare al titolo il primo in MotoGP nella moto regina proprio lo stesso nostro pilota italiano Pecco Bagnaia ha gestito la gara, è partito per vincere, la gara è stata vinta dalla pilota della Suzuki Rins, secondo Marquez e terzo proprio Pecco Bagnaia. Dunque non una vittoria ma quello che ci si aspettava, ora è tutto nelle mani appunto dello stesso Bagnaia. Cambiamo pagina, andiamo sul volley, si è chiusa la segnalità con una medaglia di bronzo per la squadra nazionale di Davide Mazzanti al mondiale in Polonia e soprattutto le fasi finali che si sono svolte in Olanda, è finita una vittoria sugli Stati Uniti l'ultima partita, partita che dopo, anzi post partita ha regalato non poche polemiche perché Paola Egonu, la giocatorice più forte italiana, nonché una dei più forti di tutto il mondo, in uno sfogo a bordo campo dopo la partita ha detto è stata la mia ultima partita perché poi abbiamo saputo dopo, ha ricevuto numerose critiche anche di stampo razzista, tant'è che c'è anche un tweet da parte di Palazzo Chigi, di sostegno nei confronti della stessa giocatrice azzurra, anche il presidente Mattarella ha chiamato il presidente della Fibab Manfredi per congratularsi del terzo posto e per parlare anche della situazione Egonu. Solidarità anche da parte del mondo del Coni con Giovanni Malagò e di Draghi, Mario Draghi, che ha chiamato personalmente Paola Egonu. Per quanto riguarda invece Manfredi, il numero uno della Fibab, andiamo a leggere le parole sue di un comunicato, ha detto siamo tutti davvero dispiaciuti per quanto accaduto a Paola Egonu e alle fese ricevute sui social da qualche persona imbecille e ignorante, dopo sei mesi intensi di attività è normale che l'azzurra fosse stata stanca e stressata, così a fine partita ha avuto questo sfogo, praticamente ha detto a una persona che era all'interbuna a fine partita, dice questa è stata la mia ultima partita, lascio, non ne posso più. Ci tengo a ricordare che Paola ha passato, leggo ancora dall'estratto, di Manfredi, ha passato diversi anni al Club Italia, poi ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili azzurre, diverse stagioni, ci sta regalando grande gioie con l'Italia, sono certo che sia legatissima della maglia azzurra, ce l'ha cucita addosso. Poi nelle dichiarazioni post partita ai microfoni dei altri emittenti nazionali, insomma ha detto, prendendosela anche con i giornalisti, vorrei sapere cosa pensano di me i giornalisti, non merito la maglia azzurra, c'è chi dice che non la merito, invece il mio sogno è essere sul podio con questa squadra, in questo momento quello che sento è che ho bisogno di fare un passo indietro, spero che fra qualche mese di ripensarci, perché abbiamo ancora tanto da fare con questa nazionale, a gennaio vi farò sapere, non ho parlato di questa mia decisione con la federazione, bisognerà vedere anche quale sarà l'esito di Mazzanti, al momento non c'è nessuna comunicazione ufficiale, per noi il tecnico nazionale ce l'andiamo a sentire. Davide e Mazzanti, le tue ragazze oggi ti hanno fatto un bel regalo di compleanno? Sì, se non sono fatte secondo me per loro il regalo perché penso che hanno fatto un'estate davvero intensa, una bella estate e la gioia più grande è per loro perché ci sono state alcune cose che non siamo riusciti a vivere come volevamo e quindi chiudere questa estate con una medaglia era davvero importante. Senti, comunque oggi c'è stata la reazione che tutti si aspettavano, tu eri il primo ovviamente da aspettartela, dopo il K.O. comunque in semifinale che va lasciato parecchio amare in bocca. Sì, tanto, tanto amare in bocca, però penso che la cosa più bella è che le ragazze erano strafocalizzate su quello che volevano, cioè la spinta ad andare a prendere questa medaglia è partita veramente tutta da loro e anche quando siamo incontrati Miriam in primis, cioè parlando ha dato una direzione chiara di tutto quello che avevamo fatto e di quello che volevamo ed è per questo che ho questo senso di gratitudine nei confronti della squadra perché penso che sia una cosa speciale vestire questa maglia e sia una cosa speciale aver incontrato questo gruppo di ragazze nella mia carriera perché mi ha dato tanto e penso che questo sia proprio il modo per godersi le cose. Si chiude comunque una stagione lunga, complicata, difficile però che comunque vi ha regalato comunque delle belle soddisfazioni anche quest'anno, no? Sì, devo dire grazie alle ragazze, tutte quelle che hanno preso parte perché sono state 36 in tutto le ragazze convocate con due staff dedicati e in cui abbiamo raccolto una medaglia alla VNL, una medaglia all'Europeo Under 21, poi i giochi del Mediterraneo e tutto con questo staff, questo gruppo di ragazze allargato e poi questo mondiale a chiudere questo percorso lunghissimo e quindi credo che sia stata un'estate tra le più intense e le più belle dal punto di vista del percorso che abbiamo fatto. Grazie per l'attenzione, non mi resta che augurarvi buon proseguimento di giornata con la programmazione di Cusano Italia TV.